carissimi amici ma soprattutto carissime amiche oh mio dio benvenuti alla quarta puntata di scota la quarantena eccolo il nostro pollo 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 eeeh oddio apriamo la nostra confezione di pollo e si aprisse crissi mo si ha coglione che cazzo ridi è quello mi scrive per esempio antonella da cani cattì cani cattì mi scrive anche simone da bavia e dice caro matteo ascolta i tuoi video fanno cagare e tu sei una grandissima rodica ci hai scassato cazzo grande matteo il mio influencer preferito sei veramente una bellissima persona ricordatevi di seguire la pagina facebook di scolta la quarantena e di mettere un like ed un commento se questo video vi è piaciuto grazie